Ciao guys, benvenuti in questo nuovo video, scusate l'impostazione ma sto facendo un video veloce che tipo saranno le 11 di sera, non lo so Per prima cosa scusate per l'assenza che ho avuto in questo canale ma è stato un periodo dove sono stata molto occupata come al solito Ma adesso ho le vacanze di Natale quindi ho pensato di poter comunque fare il video Volevo far notare una cosa per chi segue il cap ovviamente Che le Momoland hanno copiato una canzone dell'Exit Cioè Momoland sia che è Bambamor che fa L'inizio è simile a una canzone di un anno prima dell'Exit se non sbaglio Infatti adesso farò vedere la prima parte delle Momoland E poi adesso farò vedere l'inizio delle Exit Ovviamente ci sarà qualche accordo un po' diverso però il ritmo è quello E poi un passo, o anche due se non sbaglio Sono uguali Infatti vi farò vedere i 6 passi delle Momoland Perché non posso dire E li passi delle Exit Niente contro le Momoland per carità di Dio Perché no che le segua, io non le seguo Però rispetto ai gusti altrui Diciamo che comunque ho visto le Momoland un po' Facete il mio porchetto Le Momoland un po' come dire Antipatiche nei confronti, non so parlare più Nei confronti delle Blackpink, dei BTS Non lo so, a me appargono molto smicchiate Però non mi interessa tanto Comunque fatemi sapere quello che pensate voi Delle Momoland è di questo inizio E passo copiato Siccome ci sono pochi video riguardo queste cose Ho detto vabbè, perché non farne uno? Visto che l'ho notato Quindi ditemi quello che pensate voi sotto nei commenti Se sentite le canzioni uguali Oppure se non la sentite Tanto ovviamente abbiamo tutti i like diverso Lasciate i like e iscrivetevi al canale Che farò tanti bei video Ciao ciao Ciao